Tocca anche a Rezzo la mostra itinerante, gli eroi della quotidiano Mimmo Palladino per l'Arma dei Carabinieri ad ospitare l'esposizione e la Galleria d'Arte Contemporanea in Piazza San Francesco. La mostra è nata per presentare le tavole del calendario storico dell'Arma 2020, un vero e proprio oggetto di culto stampato dal 1929 con una tiratura di oltre un milione di copie. È un calendario di emozioni, è un calendario per noi importante in cui il maestro Palladino ha voluto raccontare con i suoi tratti sintetici ma chiari le emozioni delle storie vere dei Carabinieri. Sono 12 storie vere di Carabinieri che vengono raccontate e che lui ha disegnato. Il racconto è di Margaret Mazzantini che ha preso queste storie autentiche e le ha trasformate dandogli più emozioni, più profondità, mentre i tratti, i disegni sono quelli di Palladino. Palladino è un artista contemporaneo della transavanguardia che riesce a esprimere con pochi segni il significato di queste storie e a trasmettere anche delle emozioni. Quest'anno il calendario celebra il centenario della prima medaglia d'oro alla bandiera dell'arma e narra l'impegno quotidiano dei Carabinieri per le comunità. Il messaggio per l'anno in corso, per l'anno che stiamo vedendo, per il calendario che stiamo vedendo, è quello che ci sono storie di emozioni, storie di Carabinieri autentiche che vengono trasferite sulla carta non solo attraverso la penna di Margaret Mazzantini ma anche attraverso il disegno sintetico di Palladino e servono soprattutto per indicare quella che è un'arma moderna, un'arma che desidera essere vicina alla gente. La mostra resterà aperta al pubblico sino al 27 settembre.